Ciao a tutti e bentornati in Cucina Coragnese oggi voglio proporvi delle lasagne vegetariane buonissime che ho fatto qualche settimana fa e sono andate letteralmente a ruba gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono pasta pronta per le lasagne io ho qui 500 grammi un mazzetto di asparagi da cui ho diviso le punte e i gambi che ho tagliato a rondelle molto fini 500 grammi di fagiolini che ho pulito e tagliato a pezzettini formaggio grattugiato a piacere uno scalogno, uno spicchio d'aglio la besciamella che abbiamo preparato nella precedente ricetta un bicchiere di latte, poi vi farò vedere perché del sale e olio extravergine d'oliva quello buono mi raccomando sto già preriscaldando il forno a 180 gradi e quindi mettiamoci subito a cucinare in questa piappadella ho aggiunto 2-3 cucchiai di olio extravergine di oliva l'aglio e lo scalogno tagliato finemente e ora facciamoli dorare qualche minuto aggiungiamo i gambi degli asparagi tagliati a rondelle aggiungiamo un pizzico di sale, pepe a piacere se volete e ora li copro con dell'acqua calda e li lascio cuocere per una decina di minuti dovranno ammorbidirsi tantissimo e una volta cotti li passo poi con il frullatore e il mini peeper e dovremmo ridurli in una salsa a dopo prima di tutto vorrei farvi vedere la salsa che abbiamo ottenuto frullando i gambi degli asparagi nella stessa padella dove abbiamo cotto i gambi degli asparagi ho aggiunto ancora 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva andiamo ad aggiungere le cime e i fagiolini tutti insieme abbiamo una bella mescolata anche qui aggiungiamo un pizzico di sale non ho messo aglio, scalogno o niente a questo giro perché l'abbiamo già aggiunto ai gambi degli asparagi che sono ben saporiti se nel frullare i gambi degli asparagi dovessero risultare troppo densi aggiungete pure un mestolo di acqua calda io ho aggiunto il sale alle nostre cimette qui degli asparagi e ai fagiolini aggiungo uno o due mestoli di acqua calda e anche qua senza coprirlo del tutto devo farli abbassire leggermente ma non far diventare troppo troppo mosci e poi non ci resta che assemblare la nostra lasagna che io ho già una fame ci vediamo fra poco siamo pronti i nostri fagiolini quelli che ci mette di asparagi sono cotti e ancora belli croccanti la nostra salsa è pronta la besciamella pure se era leggermente raffreddata l'ho allungata con un pochettino di latte il nostro formaggio e il nostro latte la nostra pasta per le lasagne non ci resta che assemblare tutto partiamo da un po' di besciamella aggiungiamola sul fondo aggiungiamo ora la sfoglia delle lasagne ora non ci resta che andare ad aggiungere un po' di besciamella ancora la salsa verde che abbiamo preparato e la nostra verdura ok sistemiamo un po' qua aggiungiamo un po' di formaggio non tantissimo e continuiamo così fino a esaurire tutta la pasta facile e veloce ragazzi è buonissima ve lo dico ho aggiunto l'ultimo strato il formaggio grattugiato sopra e ora pochissimo latte qua attorno perché voglio una lasagna morbida 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 e non troppo secca come risultato finale va in forno già preriscaldato il mio caldissimo 180 gradi per una mezz'oretta nel frattempo vado a parecchiare la tavola e io ho già una fame che non vi dico a dopo eccoci qui dopo esattamente 30 minuti a 180 gradi le lasagne vegetariane sono pronte per essere gustate non vi so dire che profumino c'è in cucina sono caldi fumanti e io corro a mangiarmele spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta non perdetevi tutte le altre buonissime ricette primaverili che ci sono sul canale youtube di Cucina con Agnese e sul sito di Cucina con Agnese .it trovate la lista degli ingredienti e il procedimento per fare anche voi questa ricetta buonissima ci vediamo domenica prossima inviaci richieste e suggerimenti a agnese chiocciola cucinaconagnese .it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese .it .it